La nomina del nuovo presidente Rai, Marcello Foa, sarà il centro dell'attenzione del Summit del 17 ottobre a Bruxelles, assieme alla manovra finanziaria italiana. Mentre rispettiamo la sovranità del Parlamento italiano e delle sue scelte, siamo preoccupati per la nomina del nuovo presidente Rai, scrive l'eurodeputata olandese Marieti Eschat, parte dell'Alde de Guy Verhofstadt, al presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, in una lettera aperta a tutti i parlamentari europei. E continua. Foa è stato riportato come un regolare contributore della propaganda russa anche attraverso Russia Today e Sputnik e spesso ha condiviso informazioni online che possono essere qualificate, come disinformazione secondo il codice di condotta sulla disinformazione appena adottato, ad esempio sulla partecipazione di Hillary Clinton alle cene sataniche. Nella lettera, Shaq è inoltre in vita ad estendere il piano del Consiglio europeo contro le fake news online, anche i media tradizionali. Non possiamo fare in modo che il fine giustifichi i mezzi. I mezzi, quando sono illeciti, vanno perseguiti, altrimenti saremo l'arbitrio. Così si esprime il procuratore di Locri Luigi D'Alessio, a capo dell'indagine, che ha visto ieri, martedì 2 ottobre, gli arresti domiciliari per il sindaco di Riace, Domenico Lucano, ed il divieto di dimora per la sua compagna, Tesfahun Lemlem, nell'ambito dell'operazione Xenia. Sotto i riflettori, la gestione dei finanziamenti erogati dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura di Reggio Calabria al Comune di Riace, per l'accoglienza dei rifugiati e dei richiedenti asilo, oltre ad appalti pubblici affidati in maniera fraudolenta. Secondo il comunicato della Procura, venivano trasgredite norme civili, amministrative e penali per organizzare i matrimoni di convenienza fra cittadini riacesi e donne straniere, al fine di favorirne la permanenza illecita nel territorio italiano. Sono consapevole di cosa scatenerà dal punto di vista politico in riferimento al tema accoglienza e sono consapevole di aver lanciato una bomba in una favola. Oltre alla favola, però, c'era una realtà parallela che non era una bella favola. Intanto, è già iniziata la gara di solidarietà verso il sindaco Lucano dal mondo dello spettacolo, in primis Roberto Saviano, che dichiara Mimbo Lucano è colpevole di disobbedenza civile, re o solo di aver salvato vite umane. Quest'arresto non mi stupisce, per via del clima autoritario che sta vivendo il nostro paese. Nuovo vertice di stamane del Consiglio dei Ministri sulla manovra finanziaria, che segue quello conclusasi ieri sera. Oltre al premier Giuseppe Conte, presenti Luigi Di Maio, Matteo Salvini, Giovanni Tria e Insumo Avero Milanesi. Ipotizzato un calo del rapporto deficit-pill che rimarrebbe a 2,4% nel 2019, per poi scendere al 2% nel biennio 2020-2021, grazie alla crescita economica. Lo spread segnala oggi un netto calo, 284 punti, contro i 302 di ieri sera. Al lavoro per il cambiamento, tutti insieme e avanti, determinati con gli impegni presi. La nostra manovra, per la prima volta, mette al centro i cittadini e fa il bene della gente. Commenta in un tweet il premier Giuseppe Conte, aggiungendo che le riforme partiranno già da 2019. Fra queste, ha spiegato il vice premier Di Maio, i 10 miliardi per il reddito di cittadinanza, taglia gli sprechi e un miliardo e mezzo di euro per risarcire i risparmiatori truffati dalle banche. Le famiglie pagheranno le scelte disgraziate di questi cialtroni, ha reagito su Facebook l'ex premier italiano Matteo Renzi, criticando inoltre quello che definisce l'attacco personale di Salvini e Di Maio al presidente della Commissione Europea Juncker. Ma il governo non demorde e punta su lavoro e crescita, come ribadisce Matteo Salvini. Via la fornero e meno tasse alle partite IVA. In Europa se ne faranno una ragione. Gli italiani sono stufi di precarietà e insicurezza. E continua. Se qualcuno straparla perché rimpiange un'Italia precaria e impaurita, magari per poter comprare sotto costo le aziende che sono rimaste in questo paese, usando spread e mercati per intimorire qualcuno, ha trovato il ministro sbagliato e il governo sbagliato. Ulteriori dettagli sulla manovra in attesa per domani. Gli USA addestreranno soldati turchi in Siria per pattugliamenti congiunti nell'area settentrionale attorno Manbij. A riferirlo ieri martedì 2 ottobre, il segretario alla difesa statunitense James Mattis, dopo mesi di battibecco fra i paesi NATO, riguarda il loro ruolo in Siria e soprattutto dopo frizioni fra USA e Turchia, riguardo la presenza in loco da 2016 dei kurdi siriani del YPG, considerati terroristi da Ankara. La mossa avviene senza autorizzazione da parte del governo di Damasco. Il tutto mentre sull'altro fronte settentrionale, quello di Idlib, si registrano movimenti in seguito all'accordo fra Putin e Erdogan su una zona demilitarizzata da implementare entro il 15 di ottobre. Non è ancora ufficiale, ma secondo la stampa siriana, l'intelligence turca avrebbe sollecitato Jabhat al-Nusra e Hayat-Tarir al-Sham a sciogliersi e ritirarsi, garantendo in cambio che Damasco non sferrerà un attacco militare. Non è ancora chiara ora la destinazione dei terroristi, che potrebbero essere riciclati nei piani di Ankara sul nord della Siria o spediti altrove. Le tv russe hanno mandato in onda brani del Consiglio della Sicurezza Nazionale presieduto da Putin, in cui il ministro della difesa Shoigu ha comunicato l'avvenuto dislocamento nella base di Khmein Mim dei missili terra-aria più moderni di fabbricazione russa. Nessun commento circa il loro uso, ma adesso Israele dovrà fare più attenzione. Il Venezuela denuncia l'attitudine interventista della Repubblica Francese. Parigi si è unita a governi che strumentalizzano gli organismi internazionali al fine di aggredire il Venezuela e rovesciarne il governo. Così recita un comunicato ufficiale della Cancelleria di Caracas. La presidenza francese avrebbe infatti appoggiato la richiesta di Argentina, Canada, Cile, Colombia, Paraguay e Perù presso la Corte Penale Internazionale per un'inchiesta relativa a supposti crimini contro l'umanità commessi dal governo Maduro dal 2014 in poi. Secondo il Ministero degli Esteri di Caracas, con questa mossa populista, Macron intende riaggiustare la sua immagine politica compromessa e diventare una copia fedele degli USA. Solo venerdì, infatti, Trump aveva reiterato un appello per il cambio di regime. Il Venezuela è un caos che va ripulito, ha tuonato il presidente americano, mentre il vicepresidente Mike Pence e l'ambasciatrice ONU Nikki Haley twittavano a sostegno delle proteste dei dissidenti venezuelani a New York Continueremo a lottare finché la democrazia sarà restaurata e Maduro se ne sarà andato. Per parte sua, il presidente Nicolas Maduro ha invitato l'alta commissaria per i diritti umani all'ONU, nonché ex presidente del Cile, Michel Bachelet, a visitare Venezuela.